Iniziamo dall'analizzare la partita che è stata una partita interpretata davvero nel migliore dei modi dall'Italia, primi tre quarti d'ora in cui abbiamo trovato quella corsa che ci piace tanto e per la quale lavora questa squadra ormai da tanto tempo e poi nell'ultimo quarto d'ora abbiamo ben contenuto anche il ritorno della Svizzera. Sì, un ritorno che dimostra quanto loro ci tenevano comunque a far bene Andy Smith ha giocato fino all'ultimo secondo, all'ultima palla penso che abbiamo gestito gli ultimi minuti non è una gestione che ci piace ma dobbiamo imparare a farla perché come hai detto tu un gioco che ci piace fare l'abbiamo fatto per 40 minuti un primo tempo fantastico, abbiamo perso tre palle in un tempo giocando a una velocità incredibile la difesa si è dimostrata ottima come ai livelli con la Slovenia sono contento che Ebner ha continuato nella sua performance con le luori un bel ritorno perché è tanto tempo che non lo vedevamo questa è stata la prima partita di tre ci servono grazie che la federazione ci ha permesso di fare questo stage non era scontato dopo la vittoria, dopo l'eliminazione con la Slovenia sfrutteremo al massimo queste tre partite con una grande squadra con una di quelle squadre che noi dobbiamo poi battere per poterci un giorno qualificare e poi sì è vero sono amichevoli ma noi parliamo sempre dei progressi però poi vincere è l'elemento fondante sì, quando tu ci tieni a vincere dai sempre l'importanza ad ogni stage, ad ogni amichevole quella partita conta voglio sottolineare che non capita tutti i giorni di avere una squadra che nel bel mezzo del campionato straniero o italiano lavora per un amichevole tutti sono venuti, tutti sono contenti di venire per dire che Pablo Marrocchi prima della partita ha fatto un discorso proprio su questo punto qua ci hanno dato l'opportunità di lavorare, sfruttiamolo, impegniamoci, lavoriamo fino all'ultimo dettaglio è una mentalità grandiosa di questi giocatori, sono orgoglioso vedremo qualche novità, non in termini di formazione, qualche cosa da provare in più per esempio contro la Slovenia, alla fine avevi detto giocare di più col 7 contro 6 sì, veramente ci stavo pensando prima, questa era la nostra strategia di giocare nella seconda partita più in 7 contro 6 lo faremo perché dobbiamo pensare noi a provare le cose chiaro che giocando così c'è poco tempo per giocare 7 contro 6 la quarta fase quasi non esiste ma dobbiamo appunto pensare che tutte quelle volte che poi ci si ferma dobbiamo essere proprio attenti ad ogni piccolo dettaglio per fare un buon attacco e speriamo che domani vada bene questo tipo di gioco forse diciamo che il risultato alla fine non rispecchia quella che è stata tutta la partita abbiamo iniziato secondo me davvero bene, molto intensi abbiamo espresso i nostri principi che sono difesa e corsa abbiamo corso davvero tanto abbiamo dimostrato l'atteggiamento, insomma la mentalità giusta che quando vieni nazionale devi dare sempre il 110% è stata una bella partita, buone sensazioni tra l'altro dando un'occhiata al tabellino si nota come abbiano segnato praticamente quasi tutti i giocatori convocati questa è la fotografia di una squadra in cui ognuno dà il suo apporto che sia un gol, che sia una parata, che sia un'ottima difesa sì, come hai detto tu è davvero un gran gruppo una squadra davvero completa in ogni ruolo siamo a sicuro, coperti ognuno fa il suo, che sia una parata, una difesa, un passaggio, un recupero è davvero fantastico questo gruppo Adesso ci aspettiamo che sia domani che dopo domani la Svizzera voglia reagire perché se sono ritrovati anche sotto di otto non voglio dire che non se lo aspettavano perché venire a giocare contro questa Italia è difficile per tutti questo lo hanno capito tutti però perdere non piace mai a nessuno No, sicuramente, come detto te, non penso che oggi gli sia andata bene a perdere quindi domani sicuramente torneranno con l'obiettivo di mettere le cose in chiaro cercheranno di vincere, sia domani che dopo domani però noi ritorneremo come abbiamo fatto oggi sempre con la stessa mentalità e atteggiamento e cercare di vincere tutte le tre le partite